Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video di open box per una volta tipo nella vita reale, diciamo non è Fortnite, però no tipo nei videogiochi. Avremo questa cosa qui, guarda lo prendiamo, lo prendiamo subito, ma ok, vabbè si è aperto bene dai, vediamo un po', un attimo che cerco di romperlo di più questo, questo coso, sennò le cose non escono. Bello, è fatto a modo scuola, fighissimo, andiamo, ah si che ti metti tutte le figurine, no raga è bellissimo allora, io non ho mai visto video di queste cose qui, quindi appunto non lo so. Abbiamo un botto di pochettini, guardate questi qua, ne abbiamo tantissimi, ora li apriamo, vediamo cosa storiamo, prima roba figa, carte belle. L'assassino artico, che non è male, Omega la schermata, bello. Poi, questo è della season 4 che non mi ricordo il nome, scusate non mi ricordo, tutti i picconi, quello che c'è dentro, quello del Durburger. E abbiamo lui, l'arbitro, io c'ho la femmina sul gioco, però, vabbè. Ora, tutte queste qui le posiamo e apriamo subito un altro, le poso così a caso, un attimo, sennò... Apriamo subito quello del Durburger. Allora, vedete un po' come sono le carte. Vediamolo. Io non sono proprio il pacchetto, però c'è tanto. Uh, abbiamo colori, io non mi ricordo i nomi di questi. Ah, c'è scritto, malamale, Riot. Un bot, poi... No, una già doppia. Due doppie. Sì, quello della bagnina, una delle mie skin preferite, la bagnina, eh, raga. Vediamo qua la bomba appiccicosa. E questa, che mi piace un bot da vedere, questa figurina qui. Bellissime, veramente belle, queste carte qua. Ora, le posiamo tutte insieme. Adesso le mettiamo tutte insieme, guardate già quante che sono. Qua tutta la corda la mettiamo tutta lì. Abbiamo ancora tre, quattro, tre pacchi. Apriamo tutto davanti qui. Cos'è? Abbiamo il soldatino, cioè non quello là di plastica. Poi abbiamo una bruttissima schermata di calamiti. Io la odio calamiti. Il rapace, la schermata del rapace, che non è male. Chi è? Ah, ho in Manny. Vedete che è Manny? È Manny. Ah, mi piacciono di più, ovviamente, quando ci sono gli omini, perché tipo le schermate sono bellissime, ma di più quando tipo ti fa vedere un personaggio. Comunque, li fai fare scarlatto, molto carino. E un bel piccone. Abbiamo il piccone. Guardate un po', sono già abbastanza, sono tante. E vi faccio vedere un altro pacco. Ragazzi, polliciate per questo video, che è il primo che faccio tipo i real life. Spero che vi piaccia. Apriamo gli ultimi due pacchetti. Li diciamo. E abbiamo... Questa carta qua però la devo girare. Abbiamo questa. Non mi ricordo ora come si chiama in italiano, quindi non ve lo dirò, perché non me lo ricordo. Bella, comunque. Poi. Abbiamo... Chi è? Armadillo, che è una delle skin che mi piace di meno, però... Sempre, anche se ho una skin che non mi piace, comunque mi piace. Devo vedere le figurine, dico. Non gli ho come un airdrop. Che quanta vita ha? Cento. Vabbè, era ovvio. Però è doppia. No, no, no. Penso che sia doppia. Allora. Ah, ok, questa è la schermata tipo della modalità battaglia del cibo. È una schermata. Abbiamo. Molto carina. Uno che sta per essere sniperato. A caso. Ovviamente è una schermata di mani. Quindi mi sa che sarà doppia. Ma che... Master. No, raga, questa è bella. Questa è fighissima. Mi piace un botto. Mi piace veramente tantissimo il cactus, tipo. Passiamo. Penso alle ultime due o l'ultima. Vediamo. L'ultime due, avevo ragione. Sì. Però faccio un mini pacco proprio piccolo. Sarà tipo la leggendaria, fate finta. Raga, ditemi se vi piacciono questi video. Spolliziamo perché questo è il primo video di... Che faccio vedere nel real life. Lui. Raptor. Che è veramente bello. Prima c'era la schermata. Mi sembra. Poi boh. Magari sono scemo io. Non lo so. Lo mettiamo lì. Il piccone. Questo è troppo bello da vedere nella carta. Troppo bello. Uno delle più belle. Magari per voi no. Doppione. Quindi questo... Ah no. Dietro però è vero che non l'avevamo visto. E vabbè. C'è un tomato. Non proprio un tomato. Però uno scagnozzo. Questa è sempre quella uguale. Infatti guardiamo lì qua. C'è uno che sta morendo. Certo sono a caso. Non le capisco. Però se le giriamo no. Il vampa mi manca perché... Io lo prenderei solo perché mi manca. Però dai... Secondo me adesso è forte. Prima non lo prendevo mai. Scusa vampa se non ti prendevo. Abbiamo un altro piccone molto fantastico. Che si chiama come? Lamp. Immaginavo. Una lampa. Una lampada. L'ultimo. No. Il penultimo. Però poi c'è un altro non uguale a questo. Un attimo. Che questo... Raga non lo apro. Perché non riesco. Scommetto eh. Ah no. Forse è perché devo girarlo. Vediamo. Sì infatti. Non lo so. Ma è leggendario che sbrilluccica. Lo vedete? Vedete? Sì si vede. Vedete che fa l'arcobaleno tipo. Questa allora è veramente figa. Cioè raga. Bellissima. Cos'è? L'elfo sì vabbè. È raro penso. Sì sì è rarissimo penso questo. Non dico di carta dico nel gioco. Cos'è? Questo non ho capito cos'è. Non ho proprio capito cos'è. Quindi via. Questo è sempre il piccone. Ma non so se sono uguali. Perché vedete l'immagine dietro comunque. È diversa. Vabbè carina. Carina non è il massimo. Allora il show che mi piace sempre. Perché le skin troppo fighe. Come sapete mi piacciono un botto. Le skin troppo belle veramente. Il piccone. Tutti i picconi anche mi piacciono. Devo dirlo. Ma i deltaplani non so se ci siano. Perché non le vedo. Vabbè abbiamo finito il pacco. L'ultima carta che questa qua non lo so perché così. Mi sa che è un'altra tipo diciamo leggendaria come ho detto prima. Appunto per quello l'ho chiamata leggendaria. Perché sbrilluccica. Non lo so perché. Quindi boh vabbè. Vediamo se riesco a aprirla eh. Sì. L'ultima. Questa è l'ultima carta. Sì sbrilluccica anche che lei. Ed è veramente bella. Anche lei raga. Lo giriamo così. 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 E niente raga. Questo era il video. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Sciete un bel like. E niente. Bella raga.